Noi porteremo circa 4.000 persone di cui la grandissima parte sono ragazzi. Era un modo per dare una tranquillità a loro stessi, alle loro famiglie e a tutti. È un passo concreto, era una risposta concreta, una esigenza che noi riteniamo esserci di percezione di sicurezza. Più sicurezza sui treni che ogni giorno portano migliaia di ragazzi a retini a scuola. Da venerdì 15 settembre, giorno in cui suonerà la prima campanella, sui convogli LFI e TFT che collegano Arezzo con Casentino e Valdichiana, saliranno a bordo anche i vigilantes grazie ad un accordo siglato con i vigili giurati di Arezzo. LFI nel suo complesso ha deciso di affrontare diverse tematiche. Una di queste, abbiamo voluto subito dare anche un segnale di presenza sia nei confronti dell'utenza che del personale viaggiante, appunto sono delle persone che insomma coadiuveranno in questo senso all'interno delle carrozze e questo è un modo per essere vicino. La percezione di sicurezza è molto importante accanto al resto delle attività. Quindi diciamo, abbiamo cercato quest'anno di armonizzare il treno anche con gli autobus, quindi in collaborazione con Autoline Toscane e lavorando sempre in collaborazione con la scuola perché abbiamo cercato anche di armonizzare il più possibile da questo punto di vista tutte quelle che sono le domande. In questo siamo sempre aperti anche durante l'anno a recepire informazioni dall'utenza, dalla scuola e da chiunque istituzionalmente o meno voglia segnalarlo perché per noi è un modo anche per capire come possiamo far meglio.